Bentornati su MyFootballGersey Oggi vediamo la prima maglia del Chelsea per la stagione 22-23 in edizione FAN, la maglia più comoda dedicata ai tifosi La caratteristica principale della nuova maglia home del Chelsea 2022-23 è il colletto, che è bianco con finiture verde-acqua La maglia del Chelsea 2022-23 è ancora sponsorizzata da 3 mentre la società di investimenti digitale Whelfin fa il suo debutto come sponsor della manica La maglia casalinga Nike Chelsea 2022-23 è tutta blu con collo serafino bianco-turchese Un motivo leone turchese può essere visto sul collo bianco Lo stesso design è ripetuto sulla maglia pre-match Chelsea 2022-23 e su altri capi della collezione Pantaloncini blu e calzettone bianchi completano il kit La maglia è fatta in 100% poliestere riciclato Avevo già visto questa maglia in versione player, trovate qui in altro la recensione ho deciso di rivederla per notare anche le differenze Devo dire che è una bella maglia, nella mia classifica questa prende 3 stelle con tutte le rifiniture giuste di un'ottima qualità Qui in alto vedete il costo che per una maglia fatta così bene e con dei tempi di spedizione così veloci questa è arrivata in 18 giorni è veramente bassissimo Peraltro vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia ma anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa maglia e quale altre recensioni vorreste vedere in futuro Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa Quella che vedete è una taglia media della versione Fan Ciao! 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 Ciao!